Buon pomeriggio, professoressa Angela Trocino è docente nel Dipartimento di Agronomia, Alimenti Animali, Risorse Naturali ed Ambiente dell'Università di Padova, nonché sarà relatrice al TEDx Padova sabato 15 aprile al Centro Congressi di Padova. La professoressa Angela Trocino ha coordinato e partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali relativi a diverse tematiche nel settore delle scienze animali per la salvaguardia e il miglioramento del benessere animale, la qualità e il valore delle produzioni per l'uomo e la società, oltre che la sostenibilità ambientale. Le sue ricerche, professoressa, hanno per tema fra l'altro l'alimentazione animale, in che senso essa è migliorabile e le chiedo in base a quali parametri e indicatori si potrà valutarlo. La ringrazio per la domanda, è preciso che le indicazioni e le mie ricerche si realizzano in quello che è il settore delle piccole specie, quindi allevamento degli avicoli, allevamento dei conigli, settore dell'acquacoltura, quindi anche le informazioni e le indicazioni che le darò sono soprattutto riferite all'esperienza che ho in queste specie. L'alimentazione degli animali da reddito e di questi animali ha considerato sempre quella che è la necessità di soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi di crescita per garantire le migliori condizioni a questi animali. Adesso sempre di più ci interessa anche a garantire lo stato di salute degli animali è sempre stato così, ma in questo momento l'alimentazione è fatta anche considerando quella che può essere la risposta immunitaria dell'animale per migliorarla, la risposta agli stress, la necessità di migliorare anche le condizioni del microbiota intestinale perché questo possa rispondere meglio a qualsiasi tipo di stress e a qualsiasi tipo di rischio l'animale venga ad essere esposto e quindi nel complesso l'alimentazione serve per migliorare il benessere degli animali perché deve essere aderente a quella che è la fisiologia digestiva degli animali e deve garantirgli queste condizioni di benessere. Ultimo aspetto e tanto si sta facendo negli ultimi anni è quello relativo alla sostenibilità, che sia un'alimentazione sostenibile e con sostenibilità possiamo intendere e considerare diversi aspetti a partire dalla necessità di utilizzare delle materie prime, anche alternative che siano quanto meno possibili in competizione con le materie prime che utilizza l'uomo perché molti degli alimenti che si utilizzano in alimentazione animale sono in comune con la nostra alimentazione. Un altro aspetto è la possibilità di recuperare anche nuovi sottoprodotti delle filiere agricole nell'ottica di un'economia circolare, quindi di un'ottimizzazione dei sistemi agricoli e non ultimo la valutazione dell'impatto della produzione delle diverse materie prime che si utilizzano, quindi si ricercano anche delle materie prime alternative, si valuta l'impatto dal punto di vista ambientale per diversi indicatori della produzione di queste materie prime, ma si valuta anche quello che può essere l'impatto della sostituzione di una materia prima con un'altra, quali conseguenze ci sono sull'ambiente quando una materia prima che viene normalmente utilizzata viene sostituita con una materia prima alternativa. Ecco, ma una curiosità, si sta parlando da diverso tempo della possibilità di introdurre nella nostra dieta degli umani anche le proteine tratte dagli insetti, questo è possibile anche per gli animali? Certamente, negli animali c'è una lunga tradizione di utilizzo degli insetti, in particolare quando parliamo di animali da zoo, anche rettili, questi insetti sono sempre stati utilizzati nell'alimentazione, è stato il punto di partenza se vogliamo. Nell'alimentazione degli animali da reddito negli ultimi anni c'è stato un grossissimo interesse, dal 2017 nel settore dell'acquacoltura è autorizzato l'uso di sette specie diverse di insetti e a partire dal 2021 è stata introdotta la possibilità di utilizzare delle proteine derivate dagli insetti anche nell'alimentazione di polli, di avicoli e di suini. Questi insetti hanno dal punto di vista del valore nutrizionale, sono dei prodotti appunto che possono avere un elevato contenuto proteico, quindi possono sostituire le materie prime proteiche tradizionali, hanno un buon contenuto energetico, un buon contenuto di grassi e è stato dimostrato anche un effetto di stimolazione dell'immunità e effetti positivi a livello intestinale e la chitina che contengono agisce anche questa come prebiotico, quindi può avere degli effetti positivi sulla risposta dell'animale. Dall'altra parte però ci sono dei limiti, i limiti al momento sono relativi al costo di queste materie prime, le farine di insetto sono dei prodotti che ancora sono poco disponibili, hanno dei costi molto alti, quindi la fattibilità della sostituzione viene ad essere limitata da questo e altri aspetti, un altro aspetto è quello relativo al fatto che non si possono sostituire completamente le fonti proteiche tradizionali con gli insetti. Gli studi che sono stati fatti fino a questo momento hanno dimostrato che ci può essere una parziale sostituzione ma non una totale sostituzione, altrimenti si osserva una risposta negativa da parte dell'animale perché è vero che dal punto di vista nutrizionale hanno delle caratteristiche positive che sono quelle che abbiamo illustrato prima, però possono avere anche delle controindicazioni per i nostri animali. In buona sostanza in che modo l'alimentazione degli animali può migliorare anche la nostra dieta e quindi la nostra salute? Arricchire la dieta degli animali con dei principi nutritivi o dei composti bioattivi che hanno degli effetti favorevoli sulla salute umana si traduce in un vantaggio per il prodotto finale e questo nella pratica viene fatto per esempio con l'arricchimento oppure con la somministrazione di alimenti che hanno un elevato contenuto di acidi grassi omega 3 che sono quei grassi che ci fanno bene, quei grassi che ritroviamo in prodotti come i prodotti acquatici come il pesce per esempio e quindi il prodotto finale può essere arricchito in questo modo ma ci sono anche esempi di arricchimento con vitamine, quindi vitamina D, vitamina E o altri composti bioattivi. Questo è stato dimostrato per la carne di diverse specie, in particolare quando parliamo di pollo, quando parliamo degli avicoli in generale, è stato dimostrato e si vede chiaramente quello che succede nel pesce ma anche nelle uova, quindi sono tutti prodotti per i quali si può migliorare la qualità del prodotto finale modificando quella che è l'alimentazione degli animali o meglio modulando quella che è l'alimentazione degli animali. Questo va considerato sia in senso positivo che in senso negativo. Prima parlavamo degli insetti, uno dei problemi dell'impiego degli insetti, in particolare di alcune specie e che hanno un buon contenuto proteico, hanno un buon contenuto di grasso ma per alcune specie questo grasso è ricco di acidi grassi saturi, per cui può esserci il trasferimento al prodotto finale di acidi grassi saturi piuttosto che insaturi che sono quelli che preferiamo per la nostra alimentazione. D'accordo, la ringrazio molto professoressa, allora potremo sentire la sua presentazione, la sua lezione al TEDx di Padova in programma sabato 15 aprile al centro congressi di Padova. La ringrazio ancora e buona giornata. La ringrazio altrettanto e a presto.